Un altro personaggio simpatico, poi ovviamente le simpatie sono molto soggettive, ma a mio avviso simpatico come Coppola è la De Monte, un po' anche per questo volto che ha un volto da tratti somatici, simpatici. Lei parte come sindaco di Ponteba, più o meno sconosciuto perché Ponteba non è certo una grande località, poi si trova proiettata improvvisamente in Senato e poi diventa addirittura europarlamentare. Poi si vocifera di lei come possibile candidata alla Regione, questo l'anno scorso. Esattamente e soprattutto lei è nel vero cerchio magico della Boschi, piace o non piace la Boschi conta tantissimo e piace o non piace la Boschi e la Saracchiani fanno parte di due cerchi diversi. Allora sentiamo un attimino un'intervista veramente lampo alla De Monte e notate, fai attenzione, alla frecciata finale che la De Monte lancia ad Agostino Maio, al braccio destro proprio della Saracchiani. Capo che viene tra Saracchiani. Prego la regia. Chi sarà il candidato il 2018? Viene fatto anche il mio nome, come anche quello di Sciauli, insomma i nomi sul piatto sono tutti questi. Io ho sempre risposto che la mia strada è quella dell'Europarlamento e ecco come però del resto era in passato anche quello del Senato per cui ecco l'imprevedibilità un po' fa la storia anche in realtà delle candidature e delle decisioni che vengono prese nel momento in cui ci si affaccia ormai alle elezioni. Per cui nulla si può dire. Ogni nome fatto adesso ecco sarebbe forse un nome prematuro. Le logiche ci saranno mano a mano che ci si avvicina alla scadenza. Forse per lei con chi farebbe un'alleanza? Con l'NCD o con SEL nel 2018? Allora se noi guardiamo la realtà nazionale troviamo comunque una risposta. Ecco è importante avere certo la sinistra dalla nostra ma la realtà odierna è comunque un'alleanza a livello nazionale col centro. Io non lo so se questo continuerà in questa direzione, dipende come al solito anche dalle leggi elettorali però ecco secondo me potrebbe essere una chance che è quella di un'alleanza col centro. Città di Udine si fanno i nomi di Maglio, Di Martinez, Della Santoro per il centro-sinistra. Secondo lei chi di questi tre ha più possibilità di essere candidato e chi personalmente Isabella De Monte vorrebbe vedere candidato? Senza nulla togliere a nessuno però insomma ognuno. I nomi che sono stati fatti sono dei nomi interessanti e hanno dei profili diversi per cui con metterli tutti sullo stesso piano per dire chi uno chi l'altro è difficile. È certo che la diversità esiste secondo me nel momento in cui parliamo di Enzo Martínez di Santoro, ecco i nomi fatti appunto di Maio che sono stati già parte di un'amministrazione che ha ben lavorato. Sento molto ultimamente il nome di Enzo Martínez, ecco quindi forse un po' in, come dire, davanti in questo momento nelle scelte mi sembra di vedere lui perché ecco è un nome che sento spesso ormai fare nell'ambito udinese come possibile successore. Lei crede che per alcuni di Udine sarà individuato dalla segreteria del partito il candidato oppure ci saranno delle primarie di coalizione? Non vedo la percorribilità anche in questo caso di primarie. Ecco nella nostra storia vediamo sempre di più che le primarie poi dividono e è difficile coalizzarsi poi per una campagna elettorale condivisa. Quindi se possibile preferirei una scelta non fatto tanto dalla segreteria o da una direzione ma fatta nell'ottica di dare un candidato giusto che possa dare una risposta attesa dai cittadini. E Maio se non dovesse candidare sindaco che futuro potrebbe avere? Ma Maio ha una storia che penso sia spendibile in vari contesti. È certo che nel momento in cui si esce da un'amministrazione comunale se ha un ruolo più di secondo piano ecco non prettamente politico ma organizzativo è difficile è un po' più difficile rientrare in campo però non escludo che possa essere di nuovo in campo in politica o nell'amministrazione comunale oppure perché no anche in quella regionale. Comunale quindi come assessore intende? Sì come come assessore. Beh dire come assessore vuol dire proprio relegare l'ultimo posto insomma uno che va via da vice sindaco dal comune. Che diventa capo di gabinetto cioè il numero braccio destro della Seracchiani e che rientra a Piazza del Ronco in vestito di assessore di un consigliere tra virgolette normale si credo sia un azzardo. Un azzardo abbastanza forte no? Quindi è già iniziata la resta dei conti non è il PD lì. Mi pare di sì perché poi la cosa se non ho capito male noi siamo attenti alle parole ma c'è uno missis in tutte queste interviste nessuno ha parlato di primaria in queste interviste. Esatto. Allora era uno dei cavalli di battaglia del PD. Adesso questa parola ne abbiamo fatte quante ne hai fatte? Quattro cinque? Nessuno ha citato questa parola. E non può essere un lapsus freudiano no? No no infatti dopo inizierà qualcuno parlare di primaria proprio perché anch'io pongo la stessa domanda è più di qualcuno si dice addirittura contrario alle primarie. Cioè fanno finto di dire sì è il partito delle primarie quella però dicono ma se lo risolviamo in casa alla fine è ancora meglio no? L'idea che emerge appunto di un partito che sta andando in ordine sparso senza ancora una strategia senza ancora i decchiare sui candidati e le candidature senza un gruppo dirigente coeso perché se non ricordo male la De Monte fino a pochi mesi fa faceva parte del cerchio magico, te lo chiamiamo così, della Seracchiani, non della Boschi. Allora noi abbiamo insistito lungo per intervistare anche Deborah Seracchiani. L'abbiamo inseguita più o meno un mese e mezzo ma non ha trovato tempo per rilasciare una dichiarazione no? Poi insomma chi era più vicino a lei ha detto che evidentemente aveva le sue ragioni per non sapere evidentemente se dire se sarà una candidatura a B se era il giorno o meno quindi non ha voluto farsi intervistare però si è fatto intervistare e lo ringraziamo il capo gabinetto Agostino Maio a cui dico la verità abbiamo riservato forse l'intervista un po' più dura proprio perché doveva parlare di sé come possibile che è un altro sindaco ma doveva anche parlare della grande assente di questa puntata cioè Deborah Seracchiani essendo il suo capo gabinetto no? Per nulla semplice. Guarda quelle espressioni del volto sono molto lombrosiane nelle domande risponde più col viso che con le parole. Andiamo con l'intervista a Maio per piacere. Martínez, Maio, Venanzi questi sono i nomi insomma all'interno che girano un poco di più se dovessi dare nel tuo personale direi Maio, Martínez i nomi più possibili. Martínez dice io ci sono lui disponibile a candidare. Dice ho fatto 10 anni di vice sindaco, 5 anni di consiglio regionale potrei essere io il candidato. Lei? Cosa dice? Beh, certamente non dico che non sono disponibile a candidarmi, questa sarebbe un'affermazione sbagliata in natura, in nuce proprio. Io direi c'è una disponibilità ma appunto subcondizione ad un ragionamento molto ampio che deve mirare a mettere al centro l'interesse della città. Una domanda dove ha meno margini di diplomazia. Il candidato deve essere individuato dalla segreteria del PD o dalle segreterie, qualora fossero i più partiti, o da primaria. Ma anche questo consente invece un margine di diplomazia, mi permetta dottor Velviso, perché non lo si può dire ora ma sarà frutto appunto del percorso che si intraprenderà da qui a quando verrà individuato il candidato, nel senso che se c'è un'ampia convergenza di civiche, di partiti su nome, non saranno necessarie le primarie. Se viceversa invece ci sarà una corsa a diverse autocandidature, credo che le primarie siano uno strumento ineludibile. Una domanda un po' scomoda, forse visto il ruolo che ricopre, però è anche abbastanza ovvia. Deborah Saracchiani nel 2018 sarà nuovamente candidata alla guida della Regione? Io mi auguro di sì, che si ricandidi alla guida della Regione sostanzialmente per un insieme di ragioni, ma cerco di essere molto sintetico. Credo che la presidenza di Deborah Saracchiani la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia abbia portato questa Regione al massimo della considerazione a livello romano. Questo non sono io che ovviamente sono di parte a dirlo, ma i tanti autorevoli collaboratori che abbiamo a Roma e che hanno riscontrato come questa Regione veramente in questi tre anni abbia acquisito un livello di considerazione che mai si era visto prima. Se non Deborah chi? Sembra uno slogan, ma ovviamente Bolzonello, Schaurli, Jakob? Io credo che il primo nome che lei ha fatto, quello del vicepresidente, sia… Il presidente della Barcolana? Io credo che il vicepresidente Bolzonello sia francamente quello più accreditato, non solo perché ricopre il ruolo di vicepresidente, non solo per il suo trascorso molto importante di amministratore, ma anche e soprattutto per quello che ha dimostrato di saper fare in questi tre anni non facili come assessore all'attività produttiva. È vero che c'è un accordo fra lei e Martinez, dovrebbe esserci un accordo fra lei e Martinez, per cui se uno di due va a Regione e l'altro fa il sindaco? No, no, non c'è, non c'è questo accordo, questo glielo assicuro, questa è una cosa che insomma non potrei… Non potrebbe non saperlo? No, non potrei non saperlo, no, non c'è questo accordo. Chi è che muove i voti oggi in città? Perché tutti hanno un cerchio magico, no, lei si sarà fatto un suo cerchio magico, ora non chiedo a chi appartiene al suo cerchio magico, ma la faccia già la inchioda perché mi creda, ha fatto un'espressione molto… Sì, ma non ho cerchio magico, l'ho guardato con aria di stupore. Con aria di stupore perché mi sfugge. Lei crede che un politico oggi non sia obbligato a farsi un cerchio magico, cioè la Saracchiani ha un cerchio magico? No, io non so se la Saracchiani abbia un cerchio magico. Cerchio magico vuol dire i collaboratori più stretti, no? I collaboratori ce li abbiamo, ci sono sempre stati, anche nella politica degli anni 50, 60, nei grandi politici e statisti avevano dei collaboratori più o meno stretti, questo è normale. Poi il termine cerchio magico è un termine un po' così denigratorio perché sembra che si sia condizionati appunto. Lei prima ha parlato di poteri forti. Allora, per quel che riguarda Udine e devo dire anche la regione Friuli Venezia Giulia, nella mia esperienza di consigliere comunale, segretario di partito, capogruppo, poi vice sindaco, io non ho, diciamo così, avuto contezza di poteri, di istituzioni, di singole persone che possano condizionare l'azione politico-amministrativa. Concludiamo con una domanda che magari la forcire un po' più lo scoperto, l'onorevole De Monte, euro parlamentare, lo si sentirà in questa trasmissione che andrà in onda, quando le abbiamo chiesto che futura immagina per lei, ha detto che lei potrebbe essere un valido assessore per Enzo Martinez, sindaco. Cosa risponde? No, no, niente da rispondere. Non è attratto da questa ipotesi? Direi che non sono più di tanto attratto, insomma, ecco, ringrazio però la De Monte. La fiducia, d'accordo, grazie a lei. Grazie, arrivederci. L'ha ringraziata, no? Ringrazio e non dimentica. Ringrazio e non dimentico, lo slogan è tutto più lato, no? Penso proprio di sé. Non ha gradito. Non ha gradito. No, assolutamente. Era molto, molto contrariato. Non ha commentato, è stato zitto, quindi l'ha vissuto come uno sgarbo da parte della De Monte. Ma la De Monte che non è intelligente, avvocato, insomma, non è un'ingenua. Chi ha attaccato, secondo te, Maio o la Srecchiani? Facendo questa uscita qua. Lei l'ha dipinta bene l'uscita, perché lei dice, siccome Maio da 5 alla fine del quinquennio avrà ricoperto un ruolo tecnico, un rientro politico è più complicato. E poi si è dimesso da vice sindaco dopo due mesi dell'elezione. Cosa che è vera, perché le dimissioni, questo va detto, sono state mal digerite da un pezzo del PD. Per quello io penso che lui, come candidatura, spaccherebbe il partito in due. Perché c'è una parte del PD udinese che non ha ancora perdonato, maio, il fatto di essere andato a Trieste. Onsel per primo che si è ritrovato di fatto ad avere una giunta con assessori molto esperti. Per cui l'unica speranza di Maio è di seguire pedisticamente la Sera Chiani. Cioè, se lei corre nel 2018 in regione, che vinca, così lui mantiene il posto. Se lei dovesse andare a Roma, lui la segue. Ma un rientro a Udine è in chiave… È una specie di Gasparutti con tondo, insomma. Oggi la Gasparutti fa il caposegreteria con tondo. Si, è una situazione, diciamo, politicamente è la situazione più delicata e forse paradossalmente più debole, quella di Maio, rispetto agli altri. Senti, invece, un'intervista molto breve è quella che dura un minuto solamente, che mi ha voluto fare a Franco Jacop in occasione dell'apertura dell'anno accademico. Ecco, Franco Jacopo, secondo me, è un altro che, sorgnone e sorgnone, dal Presidente del Consiglio regionale, anche se dovrebbe avere un accordo di ferro con Bolzanello, a mio avviso ha in mente di candidarsi lui Presidente della regione. Questa convinzione non la toglie proprio nessuno. E soprattutto vuole inchiodare la Saracchiani. Sentiamo questa breve battuta e poi mi aiuti tu a leggerla. Secondo lei chi sono i nomi papabili per sostituire Deborah Saracchiani, qualora Deborah Saracchiani andasse a Roma o avesse altri obiettivi? Beh, innanzitutto bisogna capire se non sarà Deborah Saracchiani, bisognerebbe che questo fosse ovviamente nel dibattito politico già un dato presente nell'immediato prossimo futuro. Evidentemente, dopo Deborah Saracchiani c'è un Vice Presidente della regione che non nasconde quello che è una sua disponibilità, ma credo che tutto ciò vada appunto valutato soprattutto sulla base del progetto che eventualmente il periodo democratico e chi con il periodo democratico intende concorrere potrà porre appunto verso una regione nuova. Se le potesse lanciare un invito a Moreton a tornare in politica con il periodo democratico lo farebbe oppure un invito imbarazzante oppure ritiene che Moreton oramai abbia appeso le scarpe al chiodo? Le chiedo perché ovviamente lo conosce bene. Ma io non credo che ci sia bisogno di lanciare un invito a Gianfranco Moreton. Gianfranco Moreton ha un'esperienza politica tale, una vita politica tale che se vuole essere il protagonista lo può essere e lo può essere nuovamente. So che anche lavora, non è mai uscito dalla politica e quindi se Moreton vuole ragionare di politica siamo qua per parlare anche con lui. Senti, sembrava evangelisti quel famoso parlamentare androttiano, no? C'è proprio un... Beh, scuola democristiana... No, ma anche da faccia da squadrata, faccia da squadrata, ecco. Secondo te c'è, perché Jacopo non è uno che adesso finisce di fare presidente del Consiglio e poi va a Reana a curare... Lui dice una cosa vera all'inizio dell'intervista, dice che il dibattito sarà il canale di sì, sarà il canale di no e ora che si cominci ad attuare perché... Perché tutti pendono da questa risposta qua, no? Sì, e di fatto nessuno ha mai ancora affrontato questo dilemma perché giova a ricordare che il PD che esce da quattro sconfitte devastanti, Pordenone, Trieste, Monfalcone e Codoroipo, non ha ancora riunito la direzione per discutere come si faceva ai tempi della famigerata prima ma la Repubblica quando un partito prendeva quattro cefoni, non uno, quattro, ma quattro pesantissimi, come minimo riuniva tutti i verdi, magari il segretario regionale si presentava di missionario, magari ci si faceva... Il loro problema è che hanno questo segretario regionale che è un po' sconosciuto, no? Cioè la Grimm è evidente che... La Grimm ha detto di recente che è pronta a farsi da parte... Sì, ma cosa cambia? Cioè in una regione dove c'è la Saracchiani e Rosato, capogruppo della Camera e numero due del PD, ti pare che la Grimm conti qualcosa? No, ma in ogni caso, quando anche lei si facesse da parte, il problema resta collegiale di decisioni prese, metabolizzate, pianificate, scontri interni, quello che vuoi, quello che non c'è ancora stato. Si dice, e questo lo ha detto anche, lo dicono i verci del PD, lo ha detto anche la Saracchiani, che il voto delle amministrative non è politico. Allora la domanda che io faccio al PD, perché aspettare il referendum per fare una resa dei conti interna? Evidentemente il referendum ha una connotazione politica che sta da cappello tutte le altre consultazioni. Quindi si aspetta di capire cosa succederà nel 2018 dopo il referendum. È una contraddizione in termini ed è l'ennesimo errore, perché rinviare i problemi in un partito è quanto mai pernicioso. Bolzonello è l'altro che anche lui non ha voluto rilasciare dichiarazioni, perché dice, sai, siccome io gira la voce che potrei essere il candidato presidente, però non lo so, perché finché la Saracchiani non decide io non lo so, cosa ti vengo a dire? Ti vengo a dire che aspetto, ovviamente non voleva che io lo dicessi, quindi adesso lo sto dicendo, lui non sarà felicissimo, ma dice, cosa ti vengo a dire? Vengo in trasmissione a dirti che non so se sarò io il candidato presidente? Sì, ma infatti... E soprattutto se la Saracchiani non si candida, siamo così certi che sia lui il candidato presidente? Perché ad esempio il senatore Francesco Russo, che fa battaglia a 360 gradi, anche perché insomma l'uomo di Letta, figurati anche lui come può essere rimasto, tira due o tre stecchie forte, ma soprattutto dice, ci sono le primarie, ci sono tanti nomi e chi lo dice che Bolzonello è il candidato? Sentiamo un attimino le parole di Russo. Chi ritiene possono essere i candidati papabili per il centrosinistra nel 2018, la guida della regione? Guardi, io sono davvero poco affezionato a questi giochini, intanto perché penso che noi dobbiamo chiarire la posizione di Deborah Saracchiani, sono tra coloro che pensa che lei abbia l'intenzione e anche il diritto, se lo volesse, di andare a Roma, ha lavorato molto come vice segretaria nazionale, credo che il suo futuro sia lì, però fino a quando non lo sapremo è inutile aprire un dibattito su ciò che non esiste. E poi guardi, il tema non è il candidato, in questo momento il centrosinistra in regione ha molti problemi, l'abbiamo visto anche alle ultime elezioni, negli ultimi tre mesi abbiamo perso tutto quello che potevamo perdere. Nei primi otto comuni della regione, tra i comuni che hanno più di 16 mila abitanti, il centrosinistra governa soltanto la città di Udine. Abbiamo perso tutte le altre città che in passato erano governate da amministrazioni di centrosinistra. Mi sta dicendo che bisogna andare in discontinuità fondamentalmente con alcune scelte fatte dalla regione? Io credo che il messaggio degli elettori è arrivato forte e chiaro, quando si perde una roccaforte come Monfalcone è uno schiaffone, uno schiaffo forte che dei dirigenti politici devono ascoltare, devono capire che così avanti non si può andare. Quindi una discontinuità deve esserci, una discontinuità sui temi ma soprattutto sulla modalità. Chi sarà a scegliere il candidato governatore? La base, già che voi parlate sempre e spesso di primarie, oppure le segreterie di partito? Il Partito Democratico ha molti difetti ma è l'unico partito che fa davvero decidere ai suoi iscritti quando lo statuto prevede ma soprattutto alle primarie. Quindi se non dovesse esserci un diritto di ricandidatura per l'uscente, e quindi per la Saracchiani potrebbero esserci primarie se non c'è un nome condiviso da tutti? Beh, se non ci fosse un nome che nasce spontaneamente, forte, riconosciuto e radicato sul territorio, è chiaro che le primarie sono lo strumento migliore. Il suo ex collega di banco, il senatore Ferruccio Saro, si dice convinto che nascerà il Partito della Nazione e che quindi ci sarà una larga componente dell'attuale Partito Democratico, quello di estrazione renziana, a unirsi a quella parte di Forza Italia più moderata, forse rappresentata da Parisi. Lei vede la possibilità comunque della nascita di questo Partito della Nazione che va a eliminare dal PD la componente di sinistra che magari esce di sua volontà se non viene cacciata fuori e si allea, anzi si fonde con una componente moderata di Forza Italia? Guardi, questo lo capisco ma è un sogno di Ferruccio Saro, lui ci spera davvero perché immagino che sarebbe uno schema in cui potrebbe ancora giocare una partita, anche se credo che Saro possa mettersi l'animo in pace dopo una lunga e gloriosa carriera. No, il Partito Democratico è forse l'unica realtà solida di questo Paese, è un partito del socialismo europeo, è un partito saldamente nel centro-sinistra, certo non è il Partito Comunista di un tempo, non sono i DS, non è il PDS, è una cosa diversa, è una cosa che sta saldamente nel centro-sinistra dello schieramento di questo Paese. Renzi è l'esempio chiaro di questa scelta, ma anche chi verrà dopo Renzi manterrà questo tipo di orientamento, non ci saranno scissioni e se ci saranno non cambieranno il profilo del centro-sinistra del Partito Democratico. Sono più curioso di capire cosa succederà a destra, dove Forza Italia sta morendo, la Lega non è un partito di governo, quindi vorrei capire qual è la proposta che nascerà da quella parte lì. È un paio di battute le lancia, no Russo? Sì, c'è un appunto che... I nomi? Sì, ma su una cosa, gli farei un appunto se fosse qui, io lo conosco bene. Lui ha detto all'inizio dell'intervista che non è un problema di leader della coalizione, cioè di fare i nomi, però ricordo che lui ha fatto una battaglia durissima sul nome di Coso Linea Trieste, quindi è un problema di leadership e di nomi, anche nel Partito Democratico, che poi lui invochi le primarie, sia il primo mi pare che lo faccia a Pertis Verbis, è un altro discorso, però il problema del possibile candidato dopo Seracchiani è attualissimo e tutte queste interviste che potrebbero essere assunte come uno slogan, però in libertà, dimostrano che ancora non si è affrontato il tema, nel mentre appunto credo che alcuni lo hanno sollecitato, cioè di subito di riunirsi e cominciare a parlare, perché il 2018 lì ha messo non concesso che non si vada prima alle urne, perché ribadisco... Tu lo lascio intendere di sì, eh? No, anche se Coppola all'inizio ha detto che non vede possibili ripercussioni in chiave locale nel caso se andasse alle anticipate, questo è tutto da verificare, perché se dovesse andare alle anticipate in Italia ci potrebbe essere un effetto domino inevitabile, soprattutto. Tu te lo ricordi Andrea Montic? Certamente. È stato un vice sindaco, è stato anche sindaco per il tempo, con dimensioni di barazza. Certamente. Chi aveva come capo a gabinetto, ti ricordi? Sì, aveva Pegorère. Pegorère, bravissimo, ecco. Poi Montic è sparito un po' dalla scena politica, invece Pegorère è diventato senatore, no? Ecco. E quindi sentiamo il berassagnano Pegorère all'attacco. Nel 2018 chi sarà il candidato presidente del centro-sinistra? Alla regione. Alla regione. Io immagino che, insomma, se questo mandato verrà concluso, come immagino che sarà, mi sembra normale che chi è stato presidente per cinque anni debba tenti almeno di rifare i cinque anni successivi. Dopodiché, le dinamiche della politica italiana, lei sa, cambiano di giorno in giorno, quindi tante cose possono accadere prima di quella data. Ma se non dovesse essere Debra Saracchiani, chi sono i nomi? Ci sono diversi persone che possono farlo. Io potrei anche azzardare l'ipotesi, ma lo faccio in modo simpatico. perché non potrei essere io? Perché non potrebbe essere l'attuale segretario provinciale di Gorizia, quello di Pordenone? Perché non potrebbe essere, non lo so, qualcun altro che in questo momento si sta dando da fare per fare in modo che il Partito Democratico svolga un ruolo importante nella nostra regione, nella comunità dove lui magari vive? Vede, il problema o lei vive, il problema non è questo. Il prossimo candidato presidente deve avere... Ma sì, ma ci sono tanti nomi che girano, c'è Tizio, c'è Caio, c'è Sempronio. Io credo che la qualità della proposta di candidatura debba essere strettamente correlata e direttamente proporzionale al programma con cui si presenta. Si dice che Bolzonello sia il nome più accreditato in subordine alla Saracchiana. Sarà accreditato per se stesso, dopodiché ci sarà una discussione nel partito, io mi auguro, ci sarà un confronto di merito, voglio dire, ciascuno si può candidare in nome, non so, della presunzione di poter rappresentare un progetto, un'idea, bisogna anche metterla in campo e verificare il consenso che ci ha tornato a questa proposta. Siamo qui, siamo qui a discutere, il partito democratico è questo, è una grande comunità. Qualcuno ipotizza dopo il 4 dicembre una possibile apertura in giunta regionale all'NCD, tradotto l'ingresso in giunta di Colauti. Lei sarebbe favorevole? L'ingresso in giunta, scusi, di chi? Di Colauti. Ah, Colauti è NCD, certo, non lo so, io so che... Al di là del nome di Colauti che non è... No, ma io sono molto chiaro... lei serve favorevole a far entrare in giunta regionale l'NCD. Io credo che la nostra Presidente è stata eletta in base a un programma o un'alleanza politica, che bisogna partire da quel recinto, da quel confine. Io credo che NCD significhi nuovo centrodestra, non nuovo centrosinistra. Sergio Cecotti, che lei ha citato e che conosce bene, è un uomo di centrodestra o un uomo di centrosinistra a suo avviso? Sergio Cecotti è prima di tutto, credo, adesso poi ognuno, cioè io affido, lei mi chiede di assegnare delle etichette, sembra un po' difficile, spero che non si offenda. Per come lo conosco io, per le cose che dice, per quello che ha fatto, per quello che realizza, per quello che sta facendo anche in queste settimane e ogni sera in giro a fare iniziative per il no, Sergio Cecotti io prima di tutto lo riconosco come un grande autonomista friulano e io credo che sia molto più di centrosinistra di tanti esponenti del centrosinistra di questa regione. Bene, finalmente uno che gioca l'attacco, finalmente uno che... Un'altra cosa che emerge da questa intervista è che tutti pensano a un candidato targato PD, cioè non si pensa più a un esterno, cioè, intanto per citare, a un Illi dell'occasione, quindi il PD ha deciso, sia Sudine che ci utili di Trieste di timbrare subito il cartellino e dire il candidato sarà nostro. Vuole non sedersi a tavola loro. Sì, che poi non lo so quanto sia giusto, vero e opportuno perché questo potrebbe precludere anche la possibilità di individuare persone terze magari meritevoli di... Eviterebbe perché è chiaro che andare a pescare un candidato del PD significa aprire un contenzioso interno in un momento in cui il partito è già mi pare abbastanza in ordine sparso come leadership, Quindi c'è il rischio di ulteriori sfilacciamenti, torniamo al discorso di prima, anche in virtù di quello che accadrà dopo il 4 dicembre. Senti, adesso, prima di andare in pubblicità, nel prossimo blocco abbiamo ottenuto un po' il... forse le parti più interessanti perché abbiamo Shaole e Martinez che si vedono proiettati rispettivamente in regione e in comune e poi abbiamo un interessante editoriale del direttore del messaggero Veneto Omar Monastierno e poi ritorniamo direttamente in studio con l'intervista all'assessore regionale Cristiano Shaorri.